Dopo tantissimi giorni Una settimana è passata Se non di più Era circa un mesetto che io scrivevo a ZV Jackson ZV Posso farla a 100 tiri challenge ZV Jackson ragazzi Non ha rifiutato Ma non ha nemmeno accettato Ma Ma Mi ha dato la possibilità La sua possibilità Di diventare Il primo Scalare la classifica e rimanere in cima Perché i 50 tiri I 50 gol non sono impossibili Domani In live Mi allenerò Cercherò di superare la sfida E successivamente se la supererò Verrò valutato E decideranno se inserirmi Quindi ragazzi Vedete di supportarmi Perché in Italia non c'è Off Samuel Il granio turco Junior Delly Sespo Chi altro l'ha fatto? Quello dei Pokemon La Pikachu Il rosso Scalerà la classifica E rimarali E rimarali